No, non è vita per me. Eh, mi sa che mi devo mettere di nuovo a dieta. Dieta miracolosa. Glielo devo dire, glielo devo dire. Ciao Max, ascoltaci, dobbiamo vedere, ti devo far vedere una cosa, ti devo parlare di una roba troppo figa. Non ti preoccupare te, vediamoci al bar tra mezz'ora perché è una cosa troppo importante. Allora, Max, guarda, devi fare tre clienti e tre promoter, che è facilissimo, guarda tutti i risultati, le trasformazioni che hanno, sono i primi al mondo, il prodotto è questo qui, è uno Shape, te lo provi che ti vedo anche un po' sciuppato, ma l'importante è che siamo i primi, cerca da fare i soldi. Sì, ma non è neanche un italiano. È lo stesso, provalo. Fabio, deciso, partiamo. Michi, te che sei una sportiva, ho una cosa che devi vedere. Ciao. Ciao tesoro. A che ora comincia sta roba? Alle nove. Oh Michi, te lo dico, allora adesso andiamo, però se io arrivo là e mi vedo gente in doppia pettata che mi vuole convincere a fare qualsiasi cosa, cioè te lo dico subito, smano la serata. Buona, Fabio, buona qui, nascondiamola qui, non vede nessuno. Io non ho capito, non ci hanno fatto un contratto, niente, non lo so. Io lo faccio. Allora, se lo fai te, lo faccio anch'io. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.